Benvenuti ad un nuovo episodio di nostri podcast dedicato alla figura straordinaria del poeta turco Nazim Hikmet. Questo poeta, vissuto tra il 1902 e il 1963, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della letteratura per la sua capacità di esprimere la speranza attraverso le parole. Nazim ha condiviso le pene del carcere e le ingiustizie della discriminazione per aver osato opporsi al regime autoritario che governava la Turchia del suo tempo. Nonostante tutto non ha mai perso fiducia nell'uomo e nella possibilità di costruire un mondo migliore. Tra le sue poesie più toccanti risuona la lettera al figlio che esalta la stima verso l'essere umano. In essa si legge, non vivere su questa terra come un inquilino, oppure in villeggiatura nella natura. Vivi in questo mondo come se fosse la casa di tuo padre. Credi al grano, al mare, alla terra, ma prima di tutto credi all'uomo. Ama le nuvole, le macchine, i libri, ma prima di tutto ama l'uomo. Senti la tristezza del ramo che secca, del pianeta che si spegne, dell'animale ferito che rantola, ma prima di tutto senti la tristezza e il dolore dell'uomo. Che tutti i beni terrestri ti diano gioia, che le ombre, il chiaro, che le quattro stagioni ti diano gioia, ma prima di tutto ti dia gioia all'uomo. In queste righe emerge la centralità dell'uomo, la sua importanza primordiale, la sua dignità innata che va rispettata e difesa. Prima di tutto l'uomo. Una frase che racchiude in sé l'essenza di una poetica e di un'umanità che non conoscono confini. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso il pensiero di Nazim Hikmet.